In questo periodo sto riscoprendo la pausa del mezzogiorno e quindi mi nutro di attività fisica leggera per poi ripartire nel pomeriggio con nuove energie e nuovi stimoli dati da queste belle esperienze. È sicuramente vantaggioso per evitare assembramenti, incroci ma anche per evitare un po' quel traffico cittadino che noi sportivi diciamo così non apprezziamo perché va ad intoppare un po' tutto il proseguimento dell'allenamento. Distanti ma vicini, proteggiamoci ancora!